Amiche e amici di Bassano Sport, buonasera. Come vedete siamo a San Zeno di Cassola. Alle mie spalle si stanno ultimando i preparativi per quel che sarà il San Zeno No Stop 2017. Si partirà venerdì sera con l'estrazione dei gironi dalle 9 in poi a seguire la festa dei bar con News Café Special Movida Civico 130 Bar da Gigi a seguire il concerto dei Nova Luna. Sabato pomeriggio si partirà con l'acqua volley e il torneo dei donatori di sangue fino a tarda sera quando poi subentrerà dalle 22 la DJ Masha Zirpoli. La domenica tutta non stop con il torneo maschile di calcio fino alle 8 di sera circa. Ci sarà uno stand gastronomico che funzionerà per tutta la durata dell'edizione. Ciao a tutti e vi aspettiamo qui a San Zeno di Cassola.